La comunità montana è sempre più abbandonata a se stessa perché la regione non dà risposte ai tanti operai e dipendenti che ormai sono più di un anno che sono senza stipendio. Noi stiamo facendo il possibile regandoci in regione tutte le settimane ma ancora non si è sbloccato niente. Questo è più che una dichiarazione, un appello anche agli esponenti regionali della provincia di Salerno che cerchino di dare delle risposte a queste persone che ormai sono stremate. Ci sono realtà sempre più difficili, persone che hanno il mutuo e non lo riescono a pagare, bollette dell'ener del telefono staccate e quindi appunto chiediamo alla regione di dare delle risposte a queste persone. Grazie a tutti!